Ciao a tutti amici di Marcosbox, ben ritrovati nel consueto appuntamento con il riassunto della settimana. Cominciamo con la prima notizia. Cominciamo con il parare dei rilasci. Due sono state le disto rilasciate questa settimana. La prima è la seconda release beta di Tanglu. Tanglu, la derivata di Debian, che si prefigge di essere una Debian più facile, diciamo così. Novità di questo rilascio? Novità di questo rilascio è che finalmente c'è un installer funzionante, che è l'installer di Linux Mint Debian Edition. E l'altra novità di questo rilascio è che finalmente è stata ufficializzata la roadmap e la data finale di rilascio, che è prevista per il 12 febbraio 2014. L'altra grande distro rilasciata questa settimana è Magiaro, che è ormai abituato ad una notizia a settimana, diciamo. I maintainers della Community Edition di Magiaro hanno rilasciato le preview di Magiaro 0.8.9. Tre sono le nuove ISO, due, che già conoscevamo, la Cinnamon Edition e la Gnome Edition, che hanno subito alcuni ritocchi nell'interfaccia grafica, negli temi predefiniti, più tutti quanti gli aggiornamenti che abbiamo visto sulle altre release di Magiaro 0.8.9. Introdotta adesso una Netbook Edition che porta con sé un migliore supporto per i netbook con processore Atom. Quindi, installando questa distribuzione, questa variante, avremo un ambiente leggero, perché è basato su XFCE, con poi delle ottimizzazioni per quanto riguarda i processori Atom. Novità dal mondo Valve e da SteamOS. Valve ha rilasciato la nuova ISO, una ISO anche in questo caso beta, quindi non definitiva, di SteamOS. Novità di questa ISO è il supporto ai sistemi non Wi-Fi, la possibilità di installare SteamOS in dual boot con altri sistemi, e la possibilità, finalmente, di personalizzare anche durante l'installazione le partizioni. Tutte queste novità derivano da gli old SteamOS, il team che aveva lavorato su questa variante di SteamOS. Tutte le modifiche sono state effettuate, sono state prese e portate sulla distro principale. Un bel esempio di sinergia. L'altra notizia riguarda il regalo che Valve ha fatto nei confronti di tutti quanti i developers di Debian, cioè la possibilità di accedere a tutti quanti i giochi passati, presenti e futuri disponibili su Steam per tutti quanti appunto i developer di Debian. Ad eccezione fatta per quei giochi, i Greenlight, però comunque un vasto parco giochi presente appunto con tutti quanti i giochi futuri si arricchiranno notevolmente nei prossimi mesi. Un'ottima operazione di simpatia, anche un ottimo riconoscimento che Valve vuole dare per chi mantiene Debian e chi appunto sviluppa la base di SteamOS. Dal mondo delle derivate di Ubuntu arriva un video che mostra il nulla, ovvero lo stato attuale di sviluppo di elementari OS Isis. In un video postato da Daniel Forè, sommo batte sviluppatore della distro, si può vedere una distro che di fatto non funziona. Andate proprio a vedere, senza fare inutili polemiche qui nel video, andate via che hai già i posti di Marco Persi. Passando alle altre distro serie, gli altri desktop serie, Enrico, il mio amico Enrico, ha pubblicato una sua recensione, una sua videorecensione, su Gnome 3.10.2, in esecuzione su Fedora 20. Nel video Enrico esprime il suo solito punto di vista pungente, senza pelli sulla lingua, nei confronti di Gnome, andate a voler vedere perché è molto interessante. Restando sempre nel mondo Gnome, arriva dai developers, dai sviluppatori, una notizia che potrà far piacere a molti. A quanto pare, la prossima versione di Gnome, Gnome 3.12, avrà dei miglioramenti prestazionali, soprattutto per quanto riguarda la shell, merito soprattutto del porting di GJS, che è praticamente il binding per Gnome di Javascript, che è stato portato all'ultima rese di Spider Monkey, quindi aspettatevi dei miglioramenti per quanto riguarda tutta la shell. Matteo poi in settimana ha pubblicato il suo primo, e si spera non ultimo, post sul blog. Il suo titolo, La Clà secondo Linus. Torvalds si è tornato a esprimere, a gamba tesa di Erie, la sua opinione, senza pelli sulla lingua, sull'ennesima lamentere che gira intorno alle clà di Canonical, dicendo appunto la sua. Andatevelo a leggere, e vedete se siete d'accordo con lui. Visto che anche io non sono da meno Linus Torvalds, in quanto a mancanza di pelli sulla lingua, ho deciso di realizzare un piccolo video, dove spongo la mia opinione, sulle questioni fork e derivate. Andatevelo a vedere, lo troverete nel post, poi se non era ho messo anche il rimando sull'home page di YouTube. Partiamo ora al mondo della telefonia. A meno di due mesi dal rilascio di Yoga, il primo device dell'omonima azienda, equipaggiato con Saifish OS, sono sbucati i primi porting del sistema operativo per altri device Android. Uno di questi in particolare è il porting per Nexus 4. È apparto un video in rete, dove vi mostro in esercizione questo porting. Diciamo che il lavoro è allo stato di pre-alpha, quindi con tutti quanti eventuali bug del caso e i problemi che possono nascere se provate a instacarlo. Comunque da quel che si vede il sistema risulta fluido, per quel poco che si vede, quindi fa ben sperare per le prossime ROM. Per una notizia buona, ne arriva una, diciamo così, cattiva. Samsung ha deciso di rimandare il rilascio dei suoi primi smartphone equipaggiati con Tizen che inizialmente erano previsti per il primo semestre 2014 nei mercati coreani e della Russia. Questo però non è una notizia triste al 100%, perché comunque Samsung ha appena fatto sapere che sarà convocato durante il Mobile World Congress 2014, precisamente nella data del 23 febbraio, una prima dimostrazione per la stampa dei device con Tizen. Quindi comunque si rilascia, fa sapere che sgitterà il rilascio, però ci tiene a far sapere che Tizen è pronto, quindi intenderà a mostrare qualche cosa. Restando in tema di brutte notizie, una ne arriva direttamente dagli Stati Uniti d'America, un allarme. Windows XP è ancora utilizzato sul 95% dei bancomat. Ebbene sì, i bancomat di tutto il mondo. La società che gestiscono gli ATM dovranno quindi correre ai pari se non vogliono trovare i propri bancomat esposti a rischi di sicurezza a partire dall'8 aprile, data in cui Microsoft manderà l'impezzazione forzoso il sistema operativo Windows XP. Mi viene da dire, perché non utilizzare un sistema GNU Linux? Anche perché, da quel che si è capito, la migrazione verrà effettuata verso Windows 7. Quindi mi dà un pochettino una stupitata. Vabbè, comunque. Passiamo adesso alle buone notizie. Il telefonino continua a spiegare. La nascita di un interessante progetto chiamato OpenBilanci. Che cos'è OpenBilanci? OpenBilanci è una nuova piattaforma web, open source, che serve per aggregare tutti i dati che vengono dalle banche dati pubbliche per fornire a cittadini e imprese tutto quello che c'è da sapere sulla situazione dei bilanci dei comuni italiani. Si tratta quindi di uno strumento utile sia appunto per tutti quanti le fasce di cittadinanza per poter sapere finalmente che cavolo spende il proprio comune e come vengono impiegati i soldi. trasparenza ai massimi livelli. Altra buona notizia è che sono iniziate finalmente le preventite del Cano, il mini PC didattico basato su Raspberry Pi. Restando in tema di hardware, durante la settimana vi ho segnalato un progetto interessante che si chiama HackerBot. HackerBot è una stampante 3D progettata interamente in Italia dal team di opensourcehardware.it basata su open hardware quindi seguendo gli schemi tutti quanti potete costruire la vostra HackerBot a casa. Dovete essere comunque pratici che non è che si fa così. Bene, l'ultima notizia che ho voluto lasciare durante questo video riguarda la nuova edizione del corso base GNU Linux tenuto dal PescaraGOOG anche quest'anno i ragazzi del PescaraGOOG hanno organizzato dei corsi indirizzati sia ai pingui di neofiti che tutti quanti anche quelli un po' più avanzati perché hai visto il programma che è stato pubblicato corsi totalmente gratuiti aperti a tutti quanti. Se siete di Pescara fateci un salto oggi inizia la prima lezione oggi il giorno 25 gennaio poi ci saranno 8 appuntamenti. Bene, con questo concluso lunga vita e prosperità tutti quanti ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!